Si comincia con il retroscena della trattativa destinato in Inghilterra, ecco arrivare l'Inter. Quello che sembrava più vicino era quella cosa, poi con il Presidente si è fatto un po' duro l'affare l'Inter, poi alla fine sono venuto qua e sono molto contento. Che giocatore potrà dire di nuovo all'Inter? Per Maurito questo significa. Al momento è un prestito che in questo anno dovrò dimostrare se sono un giocatore per l'Inter o no. Un dettaglio quello del prestito che non lo porta di certo a pensare al futuro. In questo momento penso solo al presente, a allenarmi e a fare bene qua nell'Inter. Per Maurito secondo giorni neroazzurro e nessuna preferenza sul ruolo. È un grande club, uno dei più grandi del mondo, allora è diverso dalle squadre che sono state, molto diverso. La pressione c'è sempre nell'Inter, sempre c'è la pressione di vincere e di arrivare nel più alto della classifica. E questa è una persona però bella, una persona che a me piace. Quello che mi dice di fare il mister, c'è chi lo deve farlo al meglio, si deve essere esterno, dentro, un po' più dietro. Quello che è, di attaccante mi sento lì, dove devo giocare. La certezza è che quello all'Inter sarà un nuovo Mauro. Come abbiamo parlato prima, cosa che devo non cambiare perché non penso che sia così, però penso di far vedere che non è così e anche magari, quello che mi ha detto lui, di passare un po' più la palla. Tante volte cerco di fare la differenza con le mie giocate, per fare gol o per fare asist, quello che cerco io.